Anche questa mattina la Madonna è qui, è scesa nel giardino insieme con Gesù, ma ha trovato che tanti alberi sono infestati e vuole impetrare dal suo figlio Gesù la disinfestazione, la liberazione di tante e tante persone, in modo che la fioritura proceda avanti, la ligatura dei piccoli frutti sia assicurata e il raccolto sia abbondante. C'è stata un'invasione, quella di Sennacherib. Ancora non siamo liberi completamente dal male che ha portato Sennacherib, però siamo sulla via della liberazione. Il testo che ci è venuto è di 37 di Isaia. Il Signore dice che è intervenuto, ci ha rivelato e dobbiamo aver fiducia in Lui. Egli sta cacciando il nemico che si è infiltrato in mezzo a noi. Lo ha preso per le nadici con un anello e con un morso alle labbra e lo fa tornare indietro. In quanto a noi, il Signore ci dice, questo ti serva di segno, oggi è l'anno del Giubileo. Si mangi quest'anno ciò che nasce dai semi caduti. Nell'anno prossimo, quanto crescerà da sé. Al terzo anno seminerete e pianterete e avrete una grande abbondanza di frumento e di frutte. Cediamo al Signore allora in questo momento la liberazione da tutto ciò che il nemico ha fatto in mezzo a noi. Ecco, io pronuncio una preghiera di liberazione. Non dobbiamo illuderci che tutti siamo liberi completamente, no? Sappiamo che i gruppi di rinnovamento sono visitati dal nemico perché vuole impedire la lode al Signore, vuole impedire il progresso nella virtù. Perché noi siamo truppe di assalto, siamo truppe in avanguardia ed è contro di noi che ci accanisce, ci lega, ci impedisce di poter agire, di poter lottare. Ecco perché siamo i più esposti. Però il Signore ha più cura di noi perché le truppe di avanguardia, le truppe di assalto, debbbero essere ben preparate per subire l'attacco e preservare le retrovie in modo che si possa avanzare nel campo nemico e riportare vittoria. Però abbiamo bisogno di questa liberazione. nessuno si creda libero completamente, libero completamente ce n'è uno, Gesù. Quando verrai il nemico e gli diceva, non troverai in me nulla di suo. Lo poteva dire lui. Segno che in noi trova qualche cosa di lui, di se stesso. Degli addentellati, gli addentellati sono i peccati, a cui aggrapparsi, pertubarci, a cui attaccare i legami, le corde, le reti. Chiediamo in questo momento al Signore di sganciarci da tutti i legami e da tutti i piccoli tranelli che sono dentro di noi, gli anelli, i ganci, in modo che il nemico un po' possa allentare le corde e noi possiamo evadere dalla trame del nemico e avanzare più liberi nella via che il Signore ha segnato, combattendo per noi, combattendo per i fratelli, combattendo per la vittoria. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento di venire a sciogliere tutti i nostri legami. Ti chiediamo in questo momento, Signore Gesù, di venire in mezzo a noi, di radere terebre della nostra mente. Liberi il nostro cuore da tutti i legami funesti. Libera i nostri occhi, le nostre labbra, le nostre orecci, i nostri sensi, il nostro corpo, da tutti i legami del nemico. Signore Gesù, noi ti chiediamo di venire a liberarci in questo momento e voi tutti, fratelli e sorelle, disponetevi alla preghiera di liberazione. Sorgi, Signore, e si è dissipato il tuo nemico. Vengono gli angeli santi, o Signore, in questo momento a liberarci e a custodirci. Sorgi, Signore, e vieni in nostro aiuto. La potenza del Signore sia su di noi per liberarci. La grazia del Signore sia dentro di noi per sostenersi. L'aiuto del Signore sia davanti a noi di giorno, la sorpresenza di dietro di noi di notte. La sua presenza sia sempre con noi e si assicura il cammino nella termine della vita. Sorgi, Signore, e si è dissipato il tuo nemico. Vengono gli angeli santi a liberarci e a custodirci. Visita, Signore, mio Dio, questa tua vedazione. Manda gli angeli santi a liberarci e a custodirci nel tuo nome. Te lo chiediamo per la tua stessa passione e morte, o Signore Gesù, per la gloria del Padre. e nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, voi forse nel male allontanatevi da noi perché noi siamo di Dio, noi apparteniamo a Lui. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace a noi nell'intima della nostra coscienza. Sia pace, serenità, gioia a tutti noi per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Grazie.